Non è così mantiene tutti due le mani. Il tempo delle spiegazioni è praticamente finito. È giusto che vediate cosa significa fare ricerca delle tecniche di combattimento. Quello che vedrete sono tecniche prese da manuali d'epoca e cercate di riprodurre nella miglior maniera possibile. Prego! Intensamente non avvicinatevi assolutamente. Che è morto, non va dire. Vado! Vado, non va dire. Vado! Vado! Grazie. Grazie. Grazie.